Dal lunedì prossimo 8 aprile a partire dalle 9.30 fino alle ore 18 di martedì 16 aprile per consentire l'esecuzione di opere compensative relative all'ampliamento della terza corsia della 14 Rimini Nord Porto Sant'Elpidio, l'ingresso da Fano della superstrada 73 bis Fano Grosseto dalla rotatoria di Sant'Orso fino al casello di Fano della stessa 14 fino all'uscita di Fano Sud verrà chiuso al traffico. Il traffico della superstrada proveniente da direzione Grosseto verso Fano verrà quindi deviato all'uscita Fano Sud e viceversa coloro che dovranno prendere la superstrada in direzione Roma dovranno utilizzare lo stesso ingresso di Fano Sud. Per raggiungere l'amministrazione comunale consiglia l'utilizzo della nuova bretella che collega via Roma con Sant'Orso bypassando così tutto il traffico cittadino o di considerare per chi proviene da altre parti della città percorsi alternativi. La richiesta di pavimentali di autostrade per l'Italia va fino al 16 di aprile ma non si esclude meteo permettendo anche una riapertura anticipata e comunque entro le festività pasquali il cantiere sarà ultimato con la possibilità anche di utilizzare il nuovo cavalcavia che passa sopra la superstrada e che verrà collaudato a breve. I lavori che verranno eseguiti nel periodo di stop al traffico si riferiscono al rifacimento della pavimentazione e all'adeguamento delle barriere di sicurezza. Prevista anche in loco già a partire dai prossimi giorni una segnaletica per la viabilità alternativa anche in coordinamento con le forze della polizia locale.